e buongiorno so Frank rappresenta la serra o quello che c'è rimasto della serra questo posto purtroppo è stato abbandonato dall'uomo e da dio ma c'era spallata qua la strada non esiste ma dove stava la strada cacchista non che dice guarda che bello posticino qua come avuto tutto questo paese c'era distrutto guarda qua quando c'era vada nessuna proprio stava abbandonata questa gente qua in giro guarda che bellezza ma non ci approvegniamo una poca io penso che ci possiamo approvegnare una pochettina